per me tutte non succede niente dai gli è andata la cazza e affidate gli soldi oh t'ho visto, tiri fuori a fare questa roba è una bomba è una bomba, corri vinto ma che cazzo sono questi? oh l'ho ammazzo per questa storia tutto sta a vedere il padre eterno che vuole fa mi ha portato via la madre ma pure la fia no non la reggo un'altra botta non ti porta via nessuno non penso a tagliare le medicina che gli devi dare che non ti porta via nessuno ma lì c'ha solo a me sino aiuto io, ma chi aiuta? io so solo che è matto e secondo me sbaglio a portartelo dietro te sei nuova al cantiere dai c'è schizioni che sei nato oh che è questa cacerata ma questo chi è? un altro coglione come te? non cazzo! non cazzo! mi chiedo quanto può durare e quanto può durare? dura guardate che dura ma perchè lì ma che ci manca? dipende vitto a te te basta quello che ci avevo avevi cominciato a farti io non voglio che te fai oh hai capito? non voglio tu come? ti ammazzate come un cane dammi tutto quello che c'è il cazzo no non si è attaccato non si è attaccato non si è attaccato